Di nuovo in diretta sempre dalla Goldspan Experience Area, ecco Goldspan, un marchio che durante questa edizione abbiamo visto declinato in tantissime forme, però oggi abbiamo qui con noi il CEO di questa azienda, il CEO di Goldspan Emanuele Laiatici che ci spiega effettivamente che cosa fa Goldspan e come entra a far parte del panorama equestre, innanzitutto benvenuto e grazie mille per essere qui con noi. Grazie, grazie a te. Ecco Goldspan è ormai un brand affermato nel panorama equestre ma effettivamente che cosa fa? Forse per tutto quello che facciamo ogni giorno nel mondo dell'equitazione il nostro brand si è affermato per tante attività, per tante cose che presentiamo e magari ancora pochi che non sono operatori del settore sanno che Goldspan prevalentemente ed esclusivamente è produttore di lettiere in trucioli per cavalli. Questo per garantire il massimo comfort ai nostri amici a quattro zampe che vivono a volte non in maniera naturale ovviamente dovendo fare sport e quindi vivendo in box è necessario assicurarti il maggior comfort possibile e la nostra azienda questo ha come missione e veramente mi fa un grande piacere quando vedo nei video che tanti nostri clienti postano su Instagram i cavalli che si rotolano all'interno del box sul nostro truciolo veramente mi fa capire che facciamo qualcosa di buono. Esatto tutti lo vogliono che cosa ha di speciale? Beh di speciale ha che la nostra azienda fondamentalmente si occupa ogni giorno di ricerca e di sviluppo del prodotto in modo da garantire la massima qualità il massimo comfort e aderire soprattutto a quelle che sono le esigenze tecniche del prodotto per appunto garantire il massimo comfort ai cavalli. Per cui nella struttura aziendale si punta molto su ricerca e sviluppo? Sì si punta molto anche se apparentemente stiamo parlando di un prodotto banale ma nella sua banalità ha tante caratteristiche che sono necessarie e che è necessario banale alla fine dove sta il cavallo per la maggior parte del tempo? Esattamente esattamente. In box ma in box dove? Sul truciolo? Esatto capendo che proprio questa è l'esigenza cioè di garantire un luogo ottimale per passare il tempo all'interno del box questo è appunto il nostro obiettivo è dare la miglior qualità possibile. Ecco in un momento difficile come questo con aumenti dei prezzi esponenziali e emergenza climatica come si pone la vostra azienda? Come sta affrontando questo cambiamento? La mission nostra quando diciamo abbiamo capito che il mercato globale stava andando nella direzione dell'assorbimento da parte del settore energetico delle biomasse di legno che sono anche alla base dei nostri prodotti la nostra azienda ha investito tantissimo accaparrando quantità enormi di prodotto e creando dei grandi stock in modo da poter garantire ai propri clienti per anche questo periodo difficile le forniture e quindi la possibilità di continuare a dare ai nostri amici cavalli il miglior comfort nel box. Avete il magazzino pieno? Abbiamo dei grandissimi magazzini perché l'azienda che ha sede in Germania ha ben cinque stabilimenti in cui produce varie tipologie di prodotti per lettiere e quindi nei cinque stabilimenti abbiamo delle buone scorte. Direi ecco vi abbiamo visto al fianco di tantissimi eventi anche internazionali quali sono stati nello specifico gli appuntamenti del 2022 che avete scelto di sostenere? Allora nel 2022 forse abbiamo esagerato nel sostenere eventi nel senso che siamo stati molto presenti e quindi dobbiamo anche ripensare che forse una troppa presenza non fa bene al nostro brand per cui il 2023 rivaluteremo quali sono gli eventi più importanti da accompagnare. Ma fondamentalmente in quest'anno abbiamo accompagnato e abbiamo visto anche nei giorni scorsi Toscana Tour 2022 che è il primo evento dell'anno che abbiamo accompagnato con il quale abbiamo una partnership che oramai dura da tanti anni, accompagniamo l'Orse Riviera Resort con i concorsi internazionali che svolge durante l'anno, abbiamo appena concluso l'ultima tappa 2022 dell'Italian Champions Tour dove ci siamo presentati con la nostra squadra e con i nostri cavalieri che oggi ci hanno dato una adeguata soddisfazione all'impegno che abbiamo impiegato in questo percorso. Siamo stati presenti come partner ai protoni del Vivaro questo fine estate con i mondiali di completo e di attacchi e poi tante tante iniziative dirette soprattutto anche ai giovani cavalieri che sono la nostra ranking che riprende adesso da novembre per tutto il 2023 e la creazione della prima gospel jumping team che abbiamo presentato proprio ieri qua a Verona. Che ha avuto un enorme successo. Eh sì, noi cerchiamo di accompagnare grandi cavalieri ma anche giovani cavalieri nel percorso di crescita e quindi facciamo del nostro meglio. Ed è un progetto questo che continuerete nel 2023, non entriamo nello specifico degli eventi perché potremmo magari far storcere il naso a qualcuno però invece guardiamo il bicchiere, la parte mezza piena e quindi il panorama giovanile che continuerete a sostenere. Assolutamente, non ci staccheremo mai da questi progetti per i giovani che vedono appunto nella ranking una parte del nostro supporto e poi il grande format Campus Masterclass che sosteniamo oramai da due anni e che sosteneremo anche nel 2023 insieme ad altri brand di cui saremo comunque tante o sponsor anche per il 2023 che è rivolto veramente ai giovani e giovanissimi che vogliono mettersi alla prova trascorrendo una settimana di sport come dei grandi campioni internazionali. Direi Golspan a 360 gradi. Facciamo del nostro meglio. Grazie Emanuele, grazie mille per la tua presenza e per le tue parole. Grazie. Grazie a voi e buona fiera a tutti.